In Consiglio Comunale è stata presentata una mozione, quale nello specifico? È una mozione sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione che ho presentato su proposta di un'associazione che è Spazio Donna e appunto Rossana Titone che ringrazio pubblicamente per avermi coinvolta proprio in questa iniziativa, una mozione che sta facendo il giro della provincia e che ieri sera abbiamo votato all'unanimità in Consiglio Comunale. Questa mozione tratta un tema molto importante che è quello dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per cui bulimia, anoressia e tanti altri che oggi purtroppo sono sottovalutati come vere e proprie malattie. Ecco, la mozione chiede che vengano intrapresi dei rapporti, dei piani di azione con tutte le forze territoriali quindi dall'ASPA alla deputazione regionale per creare delle vere e proprie strutture di supporto a tutti quelli che ne hanno necessità, alle famiglie che ne hanno necessità perché venga trattata questa tematica come una vera e propria malattia nei casi in cui ce n'è bisogno perché ad oggi non abbiamo in Sicilia e nel meridione delle strutture adeguate per cui spesso le famiglie devono rivolgersi a delle strutture del nord con tutto ciò che ne comporta, chiaramente le spese, lasciare il lavoro eccetera. Ringrazio ancora il Consiglio Comunale per aver votato all'unanimità questa proposta e sono sicura che l'amministrazione comunale si impegnerà per poter intraprendere tutte le iniziative che vengono richieste.